Ormai siamo tutti abituati a fotografare quello che abbiamo nel piatto per postarlo su Instagram, ma qual è la differenza tra una fotografia fatta a caso con il cellulare e una fotografia realizzata durante un servizio fotografico professionale per un'azienda? Nel corso del video di oggi vado a farvi vedere alcune fotografie realizzate per il mio ultimo lavoro e vi farò vedere anche che cosa ho utilizzato, strumenti che normalmente chi è al ristorante e si fotografa al piatto non conosce o semplicemente non si è portato dietro. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per lavoro da tanti anni. Su questo canale vi porto le mie esperienze così che tutti quanti possiamo imparare qualcosa. Io a mia volta imparo tantissimo da voi con i commenti e le domande che mi fate, per cui vi invito anche questa volta a farmi delle domande se ne avete. Iscrivetevi adesso al canale in modo da non perdervi le mie risposte sotto forma dei shorts verticali e eventuali video successivi sullo stesso tema. Ma torniamo a bomba al cibo. Il cibo piace un po' a tutti, anche chi lo disprezza in realtà lo ama. A tutti quanti suppongo è capitato di fare delle fotografie al nostro piatto utilizzando queste trappole maledette, questo in questo caso è un iPhone 15 Pro, ci è capitato di fare le fotografie al cibo utilizzando lo smartphone e sono sicuro che ci è anche capitato di fare questo, di fare la fotografia con un telefono illuminando il piatto con l'altro telefono. La cosa in linea di massima non è per niente sbagliata. Nel corso del video di oggi vi faccio vedere l'upgrade di questo setup, quindi andiamo a vedere che cosa ho utilizzato per quest'ultimo lavoro. Ora, questo io lo devo segnalare come video sponsorizzato con inserazioni a pagamento in quanto alcune delle cose che vi faccio vedere oggi mi sono state mandate dalle aziende che le producono, quindi ve lo segnalo subito. Le cose che mi sono state mandate sono il treppiede di Sirui e la luce, la Coblite di Smallrig. Sono due prodotti che ho già recensito sul canale, vi lascio i link da qualche parte, potete andarvi a recuperare tutti i contenuti in cui ne ho già parlato, però un conto è parlarne e dire ok questo prodotto è figo perché me l'hanno mandato e quindi mi piace, un conto è vederlo in azione. Oggi vediamo i risultati che sono riuscito a tirare fuori utilizzando questa strumentazione. Andiamo anche a vedere il perché di certe scelte. Dunque si tratta di una trattoria tradizionale che fa cucina lombarda. In questo caso però oltre a volergli dare un look di un certo tipo e quindi qui si parla di color grading, ho fatto una cosa che di solito non faccio, ho dato una color grading particolare per dare esattamente un certo tipo di look. Fatemi sapere in un commento se vi interessa questo argomento perché ve ne parlerò ma solo se mi dite che vi interessa perché non sono sicuro che abbia tanto mordente come tema, quindi fatemelo sapere in un commento. Al di là di questo la scelta è stata di utilizzare una luce dura. Quindi sapete luce dura, luce morbida, in questo momento io sto utilizzando una luce morbida che ammorbidisce le ombre e rende più belli i lineamenti. Nel caso di questo Shooting Food invece ho utilizzato una luce dura. Luce dura significa una fonte luminosa più piccola. Qui noi abbiamo un octabox abbastanza grande che quindi diffonde piacevolmente la luce. Una fonte luminosa piccola invece, e in questo caso era grande come una moneta da 2 euro, ha l'effetto di produrre delle ombre più dure ed è più simile alla luce del sole. Perché questa scelta? Perché innanzitutto volevo sperimentare, volevo dare un look diverso, sono stufo di avere sempre la luce diffusa, voglio sperimentare qualcosa di nuovo e volevo dare tridimensionalità a questi piatti. Volevo scolpire il cibo facendo provenire la luce da una sola direzione e volevo giocare con i riflessi dei bicchieri. Sapevo ci sarebbero stati dei bicchieri col vino, volevo giocare con i riflessi dei bicchieri che si allungassero sulla tovaglia e anche talvolta sulle pietanze stesse. Il risultato ve lo faccio vedere parzialmente nel corso di questo video, ovviamente il risultato di cui siamo tutti abbastanza contenti. È un esperimento che forse ripeterò, forse no. La cosa interessante però è vedere quanta roba è stata messa in campo rispetto a una semplice foto fatta con lo smartphone. Perché? Perché come potete vedere dalle riprese di backstage, diciamo, la luce artificiale presente nel locale era abbastanza fioca e con una colorazione non particolarmente appagante dal punto di vista fotografico. Per andare lì a mangiare va benissimo, però era una luce con una dominante cromatica abbastanza marcata. Mentre la luce che ho messo in campo io è una luce cosiddetta B, quindi ha la possibilità di variare la temperatura colore tra più calda e più fredda. Quindi io potevo matchare volendo il colore della luce artificiale già presente, ma invece mi sono detto lavora giusto, lavora già bene. Ho impostato la mia luce a una temperatura di 5600 Kelvin, come faccio sempre, come faccio anche adesso. È impostata 5600 anche questa. Ho impostato 5600 sulle mie macchine tutte e lì ero pronto a lavorare e sapevo che il colore era già giusto, era già in bolla, perché comunque la dominante così viene soppressa, in quanto la mia luce era molto più potente delle luci artificiali presenti in loco e anche della fioca luce ambientale che penetrava dalle finestre. Quindi lato illuminazione ce la siamo smarcata. Luce dura, una luce attenzione che è a batterie, quindi vi parlo anche delle batterie di Small Rig perché mi hanno mandato anche un paio di batterie e quella è la luce per video più comoda che io abbia in questo momento, perché te la porti in giro. Lo stesso cliente era stupefatto e ho detto ah non c'è problema ci spostiamo all'altro tavolo. Mi fa ma devi spostare filico. No no, sta qui a batterie, rinvia così, non c'è nessun problema, posso pure tenerla in mano. Ah che bello! Questo per quanto riguarda la luce. Per quanto riguarda invece il treppiede, treppiede come vi dicevo di Sirui è un treppiede per video, quindi io l'ho utilizzato per fare delle riprese video, vi faccio vedere un paio giusto per. Quello che mi piace di questo treppiede è la stabilità immensa. Quindi io scelgo questo treppiede quando so che devo lavorare in un ambiente magari trafficato, ristorante, la cucina, camerieri che passano, perché c'è un team di persone che sta lavorando per me per portarmi fuori i piatti, quindi comunque c'è passaggio. A questo punto io so che con un treppiede come questo, anche se dovesse succedere qualcosa, anche se qualcuno me lo urta, questo non cade e difficilmente si sposta addirittura, perché hai piedini gommati che si incastrano bene sul pavimento e difficilmente si sposta anche solo di un millimetro. Inoltre la testa fluida mi permette di fare delle carrellate morbide che a mano libera non riuscirei a fare, mi verrebbero traballanti, quindi da questo punto di vista è assolutamente vantaggioso. Ora, per quanto riguarda le fotografie che in parte vi ho già fatto vedere, voi avrete visto i dati di scatto e vi sarete domandati ma perché se scatti col treppiede usi dei tempi così rapidi e dei valori ISO magari così anomali, perché magari hai scattato a ISO 400. Ebbene, il motivo è presto detto. Intanto ISO 400 non crea nessun problema a livello di rumore o di gamma dinamica, quindi va benissimo, non è un grosso problema. Fino a ISO 800 diciamo che io lavoro serenamente e dopo comincio a pormi il problema, ma fino a ISO 800 veramente non esiste il problema. Perché scatto con dei tempi così rapidi? Beh, ragazzi, per una serie di motivi. Intanto non è una buona idea fare delle pose lunghe sul cibo, perché comunque fare delle pose lunghe sul cibo significa metterci molto più tempo e il cibo è caldo e quindi si deteriora e spesso si deteriora anche in fretta. Quindi bisogna essere un po' rapidi e per fare più cose avere un tempo di scatto di 20 secondi non è una buona idea. Quindi lavoriamo con tempi di scatto abbastanza rapidi. Il treppiede in questo caso l'ho usato prevalentemente per avere l'inquadratura fissa e per poter spostare gli elementi sul tavolo mentre l'inquadratura rimaneva fissa. Quindi questo è un vantaggio in dubbio del treppiede. Io posso bloccare tutto sul treppiede, l'inquadratura rimane quella, dopodiché posso giocarmela con la messa a fuoco per mettere a fuoco esattamente dove voglio e creare delle immagini come questa che vi faccio rivedere, magari è già passata, in cui abbiamo beccato la gocciolina di glassa che viene giù dalla millefoglie. E questa è una cosa molto difficile da fare a mano libera ed è molto più facile beccarla se si inscena la cosa e se si struttura lo shooting in maniera tale da sapere che un bel momento bisognerà catturare quella cosa in quel dato modo. Si blocca tutto con il treppiede e si fa cadere la goccia e siamo pronti per catturarla e serve un tempo abbastanza rapido per catturare una roba del genere. Con due secondi di posa la goccia non si sarebbe vista, sarebbe stata eliminata dall'esposizione perché sarebbe stata una cosa in movimento e quindi avrebbe forse lasciato la scia ma di certo non sarebbe stata cristallizzata in questo modo. Queste secondo me sono le cose grossomodo che sono state messe in campo durante questo shooting. Io vi lascio come sempre spazio nei commenti se avete domande su questo tema. Tenete conto io non sono un fotografo prevalentemente food. È una cosa che mi capita di fare. So di non essere il più bravo del mondo. Sono molto più bravo a fare still life, a fotografare oggetti riflettenti, a fotografare macchinari industriali, a fotografare interni. Quelle sono più le cose mie. Quando si tratta di fotografare food diciamo che me la cavo, metto in campo quello che ho, cerco di migliorare ogni volta, di sperimentare, di portare delle soluzioni nuove per il mio cliente e soprattutto anche per me e di conseguenza anche per voi che mi seguite. Parliamone nei commenti, fatemi sapere se voi avreste fatto qualcosa di diverso, fatemi sapere se vi interessano delle lucidazioni sui prodotti di cui vi ho parlato, anche se ci sono già le recensioni online, quindi potete andarvele a rivedere, c'è già tutto. Signori, non mi dilungo oltre, io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do come sempre appuntamento al prossimo video.